Tra i trattamenti in fase di sperimentazione per il coronavirus, di cui si fa un gran parlare in questi giorni, vi è il plasma iperimmune, ovvero il plasma di coloro che sono guariti dal Covid-19. Le persone che sono state positive acquisiscono degli anticorpi. Questi anticorpi possono essere da buon farmaco, tra virgolette, per la cura delle persone che ancora sono positive. Non tutti possono donarlo perché differisce da individuo a individuo il titolo anticorpale, ovvero il livello più o meno elevato di anticorpi sviluppati durante il periodo di contagio, a selezionare i pazienti in base a determinati requisiti, i centri ospedalieri attivi nella tipologia di prelievo. Chi lo può donare? Lo possono donare tutte le persone che hanno compiuto la maggiorità, quindi dai 18 anni ai 65 anni. Queste persone devono avere, ormai la buona salute, devono avere con loro una documentazione che attesta la positività iniziale e la negatività terminale dopo il periodo di quarantena, quindi i classici 15 giorni più o meno. recarsi al centro di raccolta fisso di Branca, facendo la preventiva prenotazione presso l'Avis di appartenenza territoriale. Il ruolo di Avis in questo momento è quello di ricevere le telefonate da parte dei possibili donatori di plasma. Oltre alla costante promozione, infatti, circa la donazione del sangue, Avis in prima linea si occupa della gestione e organizzazione dei donatori di plasma. È possibile prenotarsi telefonicamente per la donazione nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì al numero 3290612821. È raccomandata la telefonata per la prenotazione, proprio perché da un po' di tempo, quindi dall'inizio della pandemia, tutte le donazioni sangue e plasma vengono fatte solo ed esclusivamente su prenotazioni. Ogni quarto d'ora c'è un donatore che può essere prenotato. E quindi nel giro di 20-30 minuti uno ha fatto la propria donazione. Ha fatto la preaccettazione, ha fatto la visita medica e ha fatto la donazione. Quindi può tranquillamente fare una cosa in tempi veramente veloci. Quindi l'invito è quello di chiamarci, proprio perché questo, oltre ad essere importante la donazione del sangue, in questo momento è importante anche la donazione del plasma. Può curare tante persone. E speriamo di tenere alla lontana questo virus.